Buffy l'ammazza vampiri, stagione 9 a fumetti e i suoi spin-off. Oggi parliamo di Willow e Spike, i due one-shot che integrano la stagione 9. Wabalabadabadaba e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica del Buffyverso, in cui appunto parliamo delle stagioni a fumetti di Buffy l'ammazza vampiri e di Angel, il vampiro con l'anima. Abbiamo parlato appunto della stagione 8, che andava a comprendere in un'unica serie a fumetti tutti i personaggi del Buffyverso, per poi invece dividersi di nuovo nella stagione 9. Nella stagione 9 abbiamo la stagione di Buffy l'ammazza vampiri, che non comprende più 8 numeri come la stagione 8, ma ne comprende solo 5, ma comprende anche altrettanti 5 numeri dello spin-off Angel e Fate, ambientato in contemporanea alla stagione 9 di Buffy. Tant'è che l'ideale per poter gustare al meglio queste due serie sarebbe appunto leggere il primo numero di una stagione e il primo numero dell'altra, quindi il primo numero di Buffy stagione 9, il primo numero di Angel e Fate e così via. Ma in questa stagione ci hanno voluto anche mettere un carico maggiore, e Joss Whedon, come sapete, sa districarsi benissimo in fatto di spin-off e di citazioni che si rimandano l'une e le altre tra le varie serie e ha aggiunto anche due numeri one-shot, cioè che autoconclusivi, uno dedicato a Willow e uno dedicato a Spike. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega di condividere il video con tutte le persone che sono amanti di Buffy o dei vampiri e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questi numeri di questo video. Vi ricordo sempre che se aprite qua sotto la descrizione troverete anche tutti gli altri miei social per potermi seguire ovunque. La prima differenza tra questi due one-shot e per esempio lo spin-off Angel e Fate è che devo dire che questi one-shot non aggiungono nulla alla trama principale. Noi possiamo leggere tranquillamente la stagione 9 di Buffy e lo spin-off Angel e Fate e proseguire nella stagione 10 di Buffy, che poi è il motivo per cui sto facendo questi riassuntoni, per andare a leggere in tutta tranquillità la stagione 10 di Buffy appena uscita da Salda Press per le persone che non hanno le stagioni precedenti. Però ecco, comunque, anche se non aggiungono nulla di fondamentale alle serie principali, perché? Perché nelle serie principali comunque quello che vanno a fare questi due protagonisti nel loro one-shot viene vagamente spiegato, arricchiscono comunque il Buffy verso, un po' come le serie tv attuali dei Marvel Studios che aggiungono, arricchiscono, approfondiscono determinate tematiche, determinati personaggi, ma una persona che non vede le serie tv e va comunque al cinema a vedere i film, i futuri film del Marvel Studios, può comunque goderseli senza aver visto per forza le serie tv, quindi cercano un po' di tenere questa linea anche qua. Come abbiamo visto nei video precedenti sulla stagione 9 e su Angel e Fate, che vi metto qua in descrizione, vi metto qua nelle schede, entrambi i personaggi, sia Willow che Spike, fanno la loro comparsa, la loro presenza, sia nella serie Buffy che nella serie Angel, quindi bisogna anche capire come collocare questi one-shot. Willow andrebbe eletto dopo il numero 3 della serie Angel e Fate, perché appunto Willow va via dalla serie principale, dalla serie madre Buffy, quindi immagino che il numero 3, il numero 2 adesso non ricordo, va via dalla serie Buffy, poi la vediamo nel numero 3 di Angel e Fate, e poi successivamente gli eventi che vediamo in questo one-shot sono successivi al numero 3 di Angel, mentre per Spike la differenza appunto è che lo vediamo andare via dalla serie madre di Buffy, poi va letto questo numero, e poi lo vediamo nel finale del numero 4 di Angel e Fate. Willow come sappiamo sta compiendo un viaggio per ripristinare la magia, la magia che è stata disconnessa dal pianeta Terra, dalla distruzione del seme nella finale della stagione 8 di Buffy la Mazza Vampiri. Questo seme, il seme della magia che si trovava sotto alla bocca dell'inferno a Sanni, cioè mano a mano che scavano trovano sempre qualche puttanata lì sotto, beh, fa niente, si trovava questo seme, è stato distrutto, per evitare che una dimensione infernale mangiasse la Terra fondamentalmente, è stata disconnessa la Terra da tutti i reami magici. Questo però ha portato notevoli conseguenze negative sulla Terra, non c'è più la magia in tutto, quindi anche nelle varie ispirazioni artistiche, non c'è più la speranza, sono aumentati i suicidi, tutte queste cose qua, e di conseguenza Willow, che comunque in un certo senso era dipendente anche lei dalla magia, ha avuto una storia di dipendenza come una droga dalla magia, vuole farsi carico di questa missione e di riportarla sulla Terra. Ruba, lascia, distrutta nella stagione 8, tra l'altro, di Buffy, che io chiamo Asha, ma in realtà la chiamano la Falce, la Falce, quella che è apparsa per la prima volta nella stagione 7 nel telefilm di Buffy. Porta con sé questa Falce proprio per carpirne, per usarne il potere, va a, come abbiamo visto nello spin-off Angel e Fate, grazie a Angel e Connor, va a Quartot, che è l'unico reame infernale da cui non si può accedere tramite portali, quindi bisogna fare un rituale abbastanza particolare, con i residuati magici di magia che Willow possiede ancora, quindi riesce ad andare a Quartot e da Quartot riesce a spostarsi su altri reami. I nuovi reami che vediamo in questo wallshot non sono tanto migliori di Quartot, o meglio, sono meno abitati da personificazioni demoniache, ma sono comunque desolati. In un paio, vediamo un paio di reami, la maggior parte del numero si, diciamo, si ambienta in questo reame dove Willow trova una sua ex, per così dire, una sua ex amante. Questa sorta di essere mezzo donna e mezzo serpente, non si sa che si chiama Halloween o Saga Vasuki, l'abbiamo anche vista, mi sembra, vagamente nella stagione 8, se non ricordo male, ma ricordo sicuramente male, sicuramente è il motivo della rottura tra Willow e Kennedy. Il numero si prende abbastanza il suo tempo sul fatto che Saga Vasuki e altre entità provenienti dalla Terra o da altri reami che appunto non si trovavano bene nel reame di appartenenza hanno creato questa sorta di oasi intrisa di magia dove tutte queste persone appunto creano una congrega di streghe e in un certo senso si sopravvivono, vivono, beandosi della loro reciproca presenza, questa magia intrinseca che c'è in tutti le autoalimenta e loro stanno fondamentalmente trascorrendo un periodo di pace in questa oasi. Pace che però è vista anche dall'altro personaggio che Willow incontra sul suo cammino, un tale Marrak, un essere che ricorda molto Bubo di Labyrinth, o Ludo se vogliamo chiamarlo col nome americano, di Labyrinth, che è una sorta di stregone che proviene dalla Terra, il cui aspetto è stato modificato durante questo viaggio nelle dimensioni infernali. Questo stregone tra l'altro è abbastanza sospetto e non è del tutto sconosciuto, ci sembra di averlo già sentito, il modo di parlare ricorda un personaggio del passato della stagione principale di Buffy e lo scopriremo alla fine chi è. Questo stregone quantomeno ha l'accortezza di far capire a Willow che sta fondamentalmente vivendo in una fumeria doppio-magica, quindi questo suo trascorrere il tempo con Saga Vasuki e le altre creature non è per cercare la magia, ma in realtà si sta un po' perdendo. Si sta perdendo, infatti vediamo come per lei è sempre meno importante tornare sulla Terra e salvare i suoi amici. Quindi il numero fondamentalmente si divide in una parte in cui Marrak, questo stregone, salva Willow da se stessa, quindi la riporta sulla retta via di trovare la magia, perché Marrak non è esente da peccati, anzi Marrak stesso vuole trovare la magia per se stesso, quindi ha bisogno di Willow. E poi c'è una seconda parte dove Willow e Marrak cercano appunto una fonte più pura della magia, trovano una sorta di incarnazione della magia, è come se entrassero in un altro reame dove sono all'interno di un corpo e questo corpo è la rappresentazione, l'incarnazione della magia e questa incarnazione fa capire due cose a Willow. Una è chi è veramente Marrak e scopriamo essere niente po' di meno che Rack, lo stregone spacciatore di magia di Willow della sesta stagione che a causa di un incantesimo aveva mutato il suo aspetto, quindi plot twist finale, Marrak non è altro che l'ex spacciatore di Willow, c'è uno scontro finale tra Willow e Rack. Willow in questo scontro capisce un po' di più, in questo suo viaggio anche, capisce un po' di più di se stessa di come non esiste una Dark Willow e una Willow, esiste solo Willow, cosa su cui francamente io non avevo assolutamente dubbi, ma qua ci hanno tenuto a precisarlo. Dark Willow non è un'entità diversa da Willow, è semplicemente una parte di Willow del tutto della persona Willow. Willow nel momento in cui capisce questa cosa, nel momento in cui capisce che la magia non va controllata, né quando è Willow, né quando è Dark Willow, perché anche Dark Willow in un certo senso è un tentativo estremo di controllo di tutto ciò che le può sfuggire a seguito appunto della morte di Tara, capisce che la magia non va controllata, ma anzi deve confluire nel suo corpo e deve guidare Willow, non deve essere Willow al volante. Nel momento in cui comprende questo è pronta ad accettare la magia dentro di sé. Questa entità, questa incarnazione della magia riesce a confluire in Willow tutta la magia che può darle, ma questa magia non può essere portata sulla Terra, non può esserci di nuovo un nuovo seme che va tenuto in connessione tra i due reami, la può dare solo a Willow ed è Willow che la porterà sulla Terra. Quindi Willow torna poi a San Francisco e sarà l'unica persona magica sulla Terra, comunque che trassuda magia sulla Terra. Ma poi come vedremo nel finale della stagione 9 di Buffy, con questa sua magia, anche alla luce di quello che l'entità le ha detto, la magia le è stata donata a lei ma non per lei e di conseguenza quando torna nella stagione 9 di Buffy, lei crea un nuovo seme e ci fa confluire tutta questa magia. Quindi la nuova magia della Terra che vedremo nella stagione 10 è data proprio da questo importante viaggio di Willow e dal finale della stagione 9 di Buffy. Il seme nella stagione 9 di Buffy è stato ripristinato da tutta questa magia di Willow e anche da tutto il potere di Illyria, personaggio di Angel nella serie TV, che ha sacrificato se stessa per dare anche lei l'energia a questo nuovo seme e evitare che esplodesse dirompendo tutta la Terra. E quindi questo nuovo seme darà nuovi poteri alla Terra. Abbiamo già visto nel finale della stagione 9 di Buffy che i vampiri nuovi, perché quelli vecchi comunque stanno alle vecchie regole, gli zompiri sono bruciati al sole, quindi presumibilmente anche Spike, Angel e tutti i vampiri normali bruceranno al sole, ma i nuovi vampiri sopportano la luce del sole e riescono a trasformarsi in creature. Vediamo una vampira che si trasforma in un pipistrello. Numero forse ancora, diciamo, un po' più inutile alla storia in sé, ma che fa un viaggio di introspezione verso il personaggio di Spike, verso l'amore infinito, nel senso che non riesce mai a finire questo amore che prova per Buffy. Vediamo Spike che, appunto, dopo aver passato un episodio che a quanto pare è stato più traumatizzante di quello che si è notato nella serie Madre Buffy, ha passato un episodio convinto che la sua dorata fosse incinta e convinto di proteggerla ad ogni costo, quando poi ha scoperto che in realtà la Buffy che era incinta in realtà era la Buffy Robot scambiata da Andrew per tenerle una sorta di protezione testimoni dato che c'era questo pericolo imminente su Buffy e di come Spike si rende conto di essere ancora completamente innamorato e perso di Buffy, allora decide di andarsene un po' come ha fatto Angel nella terza stagione di Buffy per lasciare Buffy libere per prendere la sua strada, ma non dito la Spike che ha fatto come Angel. In questo numero vediamo semplicemente Spike che è in viaggio sul lato oscuro della Luna con la sua astronave di Blatte che già abbiamo visto nella stagione 8 di Buffy, di cui lui è capitano, tra l'altro, e lo vediamo imbattersi in alcuni demoni terrestri che per qualche ragione sono finiti anche loro sulla Luna e tutti vogliono combattere per uno, tornare sulla Terra, cioè i demoni vogliono rubare l'astronave a Spike per tornare sulla Terra, e due vogliono andare di nuovo anche loro a Sunnydale, dove c'era il seme, per trafugarne i frammenti e tentare di carpire un po' tutta la magia residua. Peccato che questo è anche lo stesso compito che si sono prefissati i due gemelli Lannister, come li chiama Spike, che sono Nash e Pearl, nome che non mi ricordavo, tra l'altro, nel video di Angel e Fate. Quindi noi vediamo sulla Terra a Sunnydale che Nash e Pearl stanno cercando anche loro dei frammenti di seme per racimolare tutta la magia e fare quello, attuare il loro piano, quello che vi ho spiegato nel video Angel e Fate, però i frammenti del seme non ci sono. Buffy ha chiaramente voluto, come spiega Spike, che Spike andasse con la sua astronave e li gettasse nel Sole. Di conseguenza non c'è più nessun frammento del seme rimasto. In tutto questo Spike incontra anche una super sexy succube che cerca in qualche modo appunto di nel senso di avvicinarsi a Spike, di fargli passare la sua cotta, il suo amore per Buffy, ma allo stesso tempo cerca anche un po' di usarlo perché in realtà lei è un frammento di seme, è riuscita a tenerselo per sé, a trovarlo e tenerselo per sé e vuole aprire una nuova bocca dell'inferno. Per fare qualcosa di semplice, di apparentemente innocente, cioè tornare a casa, tornare nella sua dimensione natale, se non fosse che questo comporterebbe di nuovo un riversamento sulla Terra di entità demoniache di cui non sappiamo l'esistenza. Una nuova bocca dell'inferno che si trova sull'isola di Pasqua, aperta con i frammenti del vecchio seme, può generare qualcosa di pericoloso. È molto strano però come aprire una nuova bocca dell'inferno sia possibile senza il seme, anche se per carità ne usa un frammento, e di come aprire una nuova bocca dell'inferno non porti magia sulla Terra, cioè non sia una strada che altri abbiano pensato. Secondo me è una mezza incongruenza, però ce la facciamo andare bene così, anche perché ovviamente Spike riesce a salvare la situazione, quindi questa nuova bocca dell'inferno non viene assolutamente aperta. È un numero appunto abbastanza a sé stante. L'unica cosa fondamentale, no, ma che approfondisce un pochino la storia principale, è che ci mostra come Spike abbia già conosciuto, sia in questo numero che in un flashback, i personaggi di Pearl e Nash. Anche perché quando poi va nella serie Angel e Fate, dice appunto di averli già conosciuti e noi non sappiamo quando. Qua vediamo quando è successo tutto lì. Il finale di questo numero si chiude appunto con Spike che vuole ricominciare, vuole, nel senso, vuole un po' trovare la sua strada e riceve appunto la telefonata di Angel che lo cerca per il suo di piano per, diciamo, per sconfiggere il demone Aegon, cosa che sempre vi ho spiegato nel video Angel e Fate. Ecco, quindi, grosso modo questi numeri non sono fondamentali, ma se siete dei super fan di Buffy, chiaramente vorrete e dovrete leggere anche questi. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video che su questo tema, su questa playlist ovviamente sarà la stagione 10 di Buffy e Fumetti finalmente che ho qui tra le mani e non ho ancora letto perché aspettavo di fare insieme a voi questi riassunti e che a questo punto, visto anche lo spessore, non credo uscirà per settimana prossima perché poi come vedrete ho altre cose in pentola, però probabilmente tra due settimane finalmente parlerò di Buffy stagione 10. Vi ringrazio ancora e arrivederci. Buffy stagione 10. Buffy stagione 10.